Viaggiavano sull'asse Lombardia, Abruzzo, droga ed armi gestite da tre italiani, membri di una organizzazione criminale transregionale. A scoprire il traffico illecito sono stati i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, coadiuvati dai colleghi di Milano, che hanno arrestato i tre all'alba di ieri. I fornitori lombardi, oltre a gestire l'approvvigionamento dello stupefacente, si occupavano anche del commercio di armi da fuoco illegali. Le fiamme gialle infatti hanno sequestrato una pistola con matricola a brasa nei confronti di uno degli arrestati, 29enne di origine foggiana, residente a Pescara. In manette è finito anche un corriere, 55 anni della provincia di Milano, che dal capoluogo meneghino trasportava la droga in Abruzzo e da Pescara. Il terzo mandato d'arresto è stato spiccato nei confronti di un 63enne pluripregiudicato di origini siciliane, vicino alla mafia corleonese, che gestiva il traffico internazionale di stupefacenti attraverso rapporti con i cartelli dei narcos colombiani. Complessivamente sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 350 grammi di cocaina e denaro contante per 4.000 euro. I tre sono stati posti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa degli interrogatori di garanzia che si terranno nei prossimi giorni.